Chiudere le scuole quando c'è un'allerta meteo non è una decisione di poco conto che viene presa alla leggera, ma la domanda dei cittadini, specie negli ultimi giorni, è la stessa. Perché in caso di forte maltempo le scuole in alcuni comuni vengono chiuse e in altri no? I detrattori considerano questa misura preventiva non sempre necessaria. Quando a parlare sono i non addetti ai lavori però si viene a creare una situazione di grande confusione. Occorre quindi far chiarezza. Dinanzi ad un forte temporale la prima precauzione dei sindaci è la chiusura delle attività didattiche. Sulla questione è intervenuto anche Giuseppe Ferrara, esperto di protezione civile, che ha evidenziato come la chiusura delle scuole deve essere determinata non solo ed esclusivamente sulla base dell'allerta meteo emanata dalla protezione civile, ma valutando attentamente con sopralluoghi il rischio esistente sul territorio. Con il livello di crisi arancione che cosa poteva succedere sul nostro territorio impallidiremo e sfido chiunque amministratore, chi si fosse trovato nei panni di un amministratore, a dire ok vabbè me ne vado tranquillo a letto stasera tanto non può succedere niente. Siccome però domenica, tornando al caso specifico di questi giorni, non c'era stata ancora pioggia né nei giorni precedenti né nelle ore precedenti, quindi diciamo c'era una situazione di controllo del territorio, di monitoraggio del territorio che non ci dava ulteriori segnali. Ecco perché dobbiamo dire una cosa importante, non basta il bollettino. La responsabilità maggiore ancora una volta purtroppo è degli enti territoriali, del sindaco, del comune che insieme al bollettino di criticità deve far girare sul territorio le persone volontari, i tecnici che devono monitorare i fiumi, i punti critici e stabilire poi in base bollettino più monitoraggio, stabilire cosa fare. Domenica sera c'era una situazione di tranquillità generale, nessuno ha dato per esempio in questo caso, nonostante ci fosse il bollettino arancione di cui vi dicevo prima. Nessuno però ha dato l'ordinanza di chiusura delle scuole. Però chi poi si è attivato, come per esempio il comune di Nocere Inferiore, ma penso anche altri, come dice la legge, perché lei mi ha chiesto della legge, cioè quando arrivano questi bollettini il sindaco deve garantire, altra cosa, altro impegno gravoso per il sindaco, deve garantire che per tutta la notte, per tutto il momento in cui ci sta questo livello di criticità, c'è qualcuno che deve essere pronto a leggere, in questo caso le pecche, una volta erano i fax, che arrivano agli indirizzi che sono stati comunicati alla regione. Nel caso specifico Nocere, rispetto in questo caso, alle 4.14 di lunedì mattina è arrivato il bollettino di preallarme e di lì a poco il sindaco ha dato l'ordinanza, ecco perché è arrivata la mattina. Contemporaneamente è successo anche ad Angri, lì invece mi pare che gli eventi fossero già in atto. Quindi queste sono state le due ordinanze per lunedì ampiamente motivate per i motivi che le dicevo.